Fabrizio ed Edoardo Melara in sala stampa, lo diciamo perché qui non ci vedono al telefono, Fabrizio, un gol importante, una vittoria importantissima che gli ha restato. Sì, una vittoria importante, anche sofferta, perché in alcuni progetti, nonostante eravamo andati, come ho detto prima, sul 2-0, dovevamo gestire meglio la gara, sicuramente dovevamo vedere più la palla, cercare di forzare meno la giocata, perché anche il mister che da noi ci ha giocato anche insieme, ha preparato veramente bene, ci aspettavano tutti, erano le palla pronti per i partiti, quindi è stata però una vittoria del gruppo, una vittoria importante, una vittoria del gruppo e quindi andiamo avanti. segnare di test con questo pubblico, che è una dedica particolare, lo possiamo dire, abbiamo messo verso la tribuna, c'è stata emozione anche in tribuna. Era nel confronto di mia moglie, quindi era il mio, poi c'era Edoardo, che era la seconda, la terza partita che viene a vedere, c'era la dedica alla famiglia e soprattutto ai miei compagni. Lo portiamo più spesso, è segnato? Sì, da sempre allora. Fabrizio, al di là della prestazione, ti ho portato un gesto, quando ti sei avvicinato al Canotto, che forse era proprio contento di uscire dal campo, l'hai un po' consolato, anche questo è importante, no? Per i partiti, diciamo, tenere il gruppo... Sì, è importante, è fondamentale, perché oggi sono stati fuori Daniele, che è qui in tempo, era tanto che non giocava dall'inizio, non aveva voluto rischiare, e poi ha fatto delle scelte abbastanza volate, doveva gestire bene tutti quanti, è importante il gruppo adesso, tutti quanti anche dietro, infatti si è preso lo stesso Berardi che ha fatto gol, Strepezza che ha fatto l'assist, Daniele che ha fatto gol. è fondamentale, come dicevo prima, il gruppo che arriva con più alternative e meglio fisicamente arriverà lontano.